Io faccio il pane da 5 o 6 anni. Prima lo faceva mia mamma, da una vita, l'ha sempre fatto lei, poi mi ha passato il testimone, diciamo. Una volta che il paese le regnitò i currei, il Coran della Cruz, come erano venuti giù dei sassi e dei paesani per proteggere questo paese, una tradizione, ho cominciato a fare questa sagra della Madonna del Toc, la rivoluzione, e tutti il 15 di agosto fanno questa processione, portano in giro la Madonna e danno il tozzo di pane alla fine. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.